Come fondatore della mia associazione, in molti paesi noi omosessuali siamo costretti a guardare la società ancora dal basso, in posizioni di perenne inferiorità. Ma chi come noi ha sempre sofferto non affonda mai, al massimo si rovescia, non si stanca mai di combattere. Come fondatore della mia associazione, sono andato in un paese dove le autorità hanno fucilato più di cento omosessuali. Ho indossato un grembiule bianco e mi sono schierato davanti al carcere. Mi hanno arrestato. Noi dobbiamo farci arrestare per farci liberare, per far capire a quel paese che l'assoluto ci ama tutti, se ha voluto anche noi. Ci ama uno per uno, senza distinguere. Invece, più il paese è arretrato, più noi omosessuali siamo sommersi dall'ignominia. Commento. Quando l'individuo, dopo il trapasso, diviene di nuovo spirito e continua a vivere nei piani superiori di esistenza, non ha più sesso.